Bentornati all'Italia Riparte, la serie di interviste e di colloqui che la stampa sta organizzando per cercare di analizzare gli effetti della pandemia e del virus sull'economia e sulle nostre vite con i protagonisti del mercato. Vi invito ad andare a vedere sul nostro sito internet, ci siamo occupati di musica, di energia e di cento altre cose. Parliamo nuovamente di energia perché in una situazione in cui il virus ha fatto crollare i consumi, le telecomunicazioni e l'energia sono i due settori che hanno tirato di più e quindi è il momento di ragionare su come gestire una nuova realtà, garantire la qualità e garantire la stabilità delle forniture. Ne parliamo con Simone De Marchi che è l'amministratore delegato di Axpo Italia SPA che da vent'anni in Italia si occupa di energia e cose simili a 250 dipendenti e un fatturato di 2,7 miliardi di euro. È il quarto gruppo in Italia per l'energia. Dottor De Marchi, com'è cambiato il mondo in questi mesi e qual è l'eredità che noi ne traiamo? È inutile dire che anche il mondo dei servizi e in particolare dell'energia è stato impattato drammaticamente da queste esperienze che abbiamo vissuto. Qual è il take away? Cosa abbiamo imparato da questi mesi in cui siamo stati consentiti di lavorare a casa? Appunto, come tutti, si può lavorare a casa, chiaro, non deve diventare, probabilmente il lavoro in ufficio non verrà sostituito completamente dallo smart working, ma quello che abbiamo visto è che è possibile fornire adeguati servizi ai nostri clienti e mantenere in sicurezza il sistema energetico. Ecco, ma dal punto di vista della fornitura avete avuto un picco di richieste in questi mesi. Come cambierà il vostro modo di offrire il vostro servizio alla clientela? Beh, questo lei tocca un tema che è molto di attualità. È evidente che abbiamo avuto un picco di richieste e anche un picco di consumi per quello che riguarda le utenze domestiche, che però non ha controbilanciato il drammatico calo di consumi del mondo industriale, questo potete immaginarlo. È evidente che una parola che oggi è sulle bocche di tutti, digitalizzazione, noi eravamo già partiti, immagino, credo e spero che anche tutta l'utenza domestica, tutto il mondo retail, vada sempre più un servizio che sia smart, digitale, in modo da avere un miglior rapporto tra il fornitore e l'utente finale. Ecco, se potesse farmi un esempio di digitalizzazione, perché io potessi spiegarlo al mio suocero, cosa direbbe? Cosa vuol dire digitalizzazione per questo? Certo, digitalizzazione vuol dire che, vuol dire quello che noi abbiamo lanciato già un anno fa, un nuovo brand si chiama Palsi, prevede che l'utente possa semplicemente e in maniera molto trasparente cambiare il fornitore, in tre minuti è tutto fattibile, è tutto semplice, è tutto chiaro. Uno dei problemi principali, una delle maggiori barriere all'ingresso per cambiare il fornitore è stato sempre quello, che era abbastanza complicato, la molle di dati richiesta non era di semplice individuazione, oggi è anche il settore dell'energia, del gas, deve andare verso forniture che aiutino il cliente in questo passaggio, con, ripeto, massima trasparenza e massima professionalità. Quindi aiutare il cliente ad avere un servizio più rapido e migliore. E le tariffe, come andiamo sulle tariffe? Perché con il calo del petrolio uno si aspetterebbe che genericamente, in genere, tutte le tariffe diminuiscano. C'è una prospettiva, secondo lei, di calo delle tariffe o c'è il rischio che proprio le nuove esigenze di sicurezza e di sostenibilità portino ad un aumento? Guardi, lei ha colto il punto. I prezzi dell'energia nel mondo spot è crollato drammaticamente, esattamente come le altre commodity. È evidente che questo ha avuto una ripercussione diretta sui clienti, magari clienti industriali, che avevano prezzi legati al prezzo orario. Chi aveva scelto un prodotto fisso che in altri momenti garantiva da eventuali aumenti, questo lo vedrà eventualmente in una fase successiva. Chi è rimasto anche sul mercato della tutela avrà una riduzione di tariffe nel prossimo trimestre, ma giustamente, come dice lei, per mantenere in sicurezza la rete c'è stato un onere maggiore, che comunque è una piccola quota rispetto alla grossa riduzione di prezzi che c'è stata. E poi, come l'altro punto che lei tocca, la sostenibilità, tutto questo new green deal, oggi una quota importante della tariffa, delle fatture che noi riceviamo a casa, legata agli incentivi, bisognerà vedere cosa succede in futuro. Ecco, lei ha citato il new green deal, il nuovo patto verde che sta lanciando la Commissione europea e l'Unione europea in questo momento. Se ci fosse un governo dei marchi e lei avesse una sola scelta da fare, cosa farebbe per andare nel senso del nuovo patto verde e migliorare la sostenibilità energetica nel rispetto dell'ambiente? Ma guardi, io con molta poca fantasia devo dirle che copierei quello che stanno facendo, che hanno fatto altri paesi europei, in cui si è riuscita a combinare l'esigenza di uno sviluppo sostenibile, quindi con impianti fotovoltaici piuttosto che impianti eolici, ma senza ricorrere agli incentivi, che hanno sicuramente avuto un vantaggio negli anni scorsi per lanciare anche a livello mondiale tutto questo settore, ma che inevitabilmente hanno la contropartita di pesare sui conti che ogni mese noi paghiamo. In altri paesi europei hanno trovato, attraverso una semplificazione magari delle regole di autorizzazione alla realizzazione, oggi è possibile sviluppare questi grandi impianti fotovoltaici e eolici senza ricorrere a sussidi statali. Questo attraverso soluzioni di mercato totalmente accettate dal mondo finanziario, quindi si parla di corporate PPA, in cui ci sono grandi aziende che sono le prime a sentire la necessità di avere di questa svolta rinnovabile, di questa svolta green, piuttosto che i grossi istituzioni finanziarie che proprio vogliono investire solo nel rinnovabile. Ecco, io ho sempre l'impressione che le reti in Italia non siano all'altezza della situazione e parlo delle telecomunicazioni, dei trasporti, delle ferrovie e penso anche l'energia. Cercherebbe di convincermi che mi sbaglio? Ma guardi, devo dire che Terna, da quel punto di vista, gli investimenti in questi anni ne ha fatti e ne ha fatti parecchi. È evidente che l'Italia, io parlo solo di energia che più o meno dovrei conoscere, è evidente che l'Italia soffre di una conformazione geografica che non rende semplicissimo il flusso di energia dal nord al sud e viceversa. E ovviamente noi abbiamo il problema che il maggior vento, il maggior sole è al sud, ma la maggiore industria è al nord. Quindi trovare una rete che sia in grado di far fluire senza problemi, senza colli di bottiglia, tutta l'energia rinnovabile prodotta dal sud verso il nord è sicuramente una bella sfida che è in capo a Terna, la stanno affrontando, immagino che tutta la tecnologia e la digitalizzazione potrebbero anche aiutare, non è semplice. Aggiungiamoci un problema a questa situazione, lo sviluppo di tutto quello che diventerà il mondo delle mobility con le colonnine di ricarica e un impatto sulla rete. Insomma, gli ingegneri di Terna e della distribuzione avranno un bel problemino a cui pensare. Va bene, ok, d'oggi in poi crederò nella vita Terna. Però, un'ultima domanda, lei in un'intervista alla stampa ha detto che questo è il momento per il consolidamento del suo settore, del settore delle utilità pubbliche. Vuol dire che avete in mente delle acquisizioni? Beh, guardi, noi già l'anno scorso abbiamo partecipato ad alcune operazioni. Sì, se ci fossero le opportunità crediamo che questo sia il momento adatto. D'altronde i margini sono sempre più sotto pressione, sono cambiate le regole, ci sono più di centinaia e centinaia di operatori e forse bisognerebbe porsi delle domande, ma, insomma, l'autorità e il Ministero so che ci stanno già pensando. È evidente che vorremmo tutti quanti evitare le situazioni che sono successe nel passato in cui poi i clienti si sono trovati in situazioni complicate a causa di operatori che fino in fondo non sono stati in grado di reggere l'onere finanziario di questo settore. E allora, vediamo se questa crisi sarà, come si suol dire, foriera di opportunità anche questa volta. Io ringrazio Simone De Marchi che è l'amministratore delegato di Expo Italia. Ringrazio chi ci ha guardato nel nostro ciclo di, chiamiamoli, piccoli incontri dell'Italia Riparte. Gli altri li trovate sul sito. Buona giornata a tutti quanti, buon proseguimento. fate attenzione perché la crisi non è ancora finita. A presto. Buongiorno a tutti, arrivederci.